Ciao a tutti, piccolo video haul brevissimo, ve lo dirò sempre, voglio farli più brevi possibili perché ci metto tanto a caricare. Questo è un piccolo video haul di ieri con un prodottino, un intruso che poi vi dirò, sono andata all'Inz, vi avevo già detto in un video precedente quello del sapone intimo, del dentifricio, che mi avevano parlato della linea bio della Inz. Io sono stata nuovamente alla Inz ieri ed effettivamente ho fatto un po' di acquistini, sempre della loro linea bio. Innanzitutto, ve l'ho fatto anche vedere nelle sorprese del mese di novembre, ecco la nuova confezione comprata di Ministru della Lamela, come vi ho detto anche in quel video, ogni 79 calorie per 16,6 grammi, guardiamo dietro, come è posizionata, io sono ancora in pigiama, è domenica mattina, fatemi godere la mattinata, arriva il mio gatto, allora, ecco qui, questi sono i valori nutrizionali, lui annusa tutto, vabbè, farcitura alla mela al 40%, zucchero, mele 35%, succo di limone concentrato, eccetera, eccetera, può contenere uova, latte e soia, cioè io vi dico solo che vi sto facendo vedere questo prodotto e il mio gatto è qui, il mio gatto è qui. Jerry, saluta, di ciao, ciao! Quindi ho comprato questo, poi ho comprato la crescenza biologica, a me piace molto la crescenza, mangio pochi latticini, però la crescenza mi piace, scadrà, Jerry, il 5 dicembre 2014, questi sono i valori nutrizionali, le calorie, tutta la tabella per chi fosse interessato, la trovo molto buona, devo dire, adesso è fresca di frigo e l'avevo già comprata e quindi l'ho ricomprata perché è molto buona. Altra cosa acquistata è questa, le uova grandi fresche biologiche, allora per chi mi segue su Google+, e anche credo di averla pubblicata sulla mia pagina Facebook, avrà sicuramente letto il piccolo, piccolissimo articolo che io ho scritto sul come leggere le uova, ed era intitolato non rompete le uova nel paniere, perché? Perché in questo piccolo articolo, ecco il gatto forse se ne va, si parlava appunto delle uova, delle uova, come leggere quei numerini stampigliati sulle uova e come capire se sono realmente biologiche da galline allevate in allevamenti biologici. Allora, questo è il valore energetico, ma sono uova, e perché? Eccola qui, vedete 0, vedete il primo numero, c'è scritto 0, e come ho scritto nel mio articolino, ecco i codici, tra l'altro qui c'è un 3 che io non ho inserito nell'articolo, se guardate a tipologia di allevamento, vi indica anche che tipo di allevamento, vedete? Tipologia di allevamento, 0 uova biologiche, 1 uova da allevamento all'aperto, uova da allevamento a terra, è uova da allevamento in gabbia, probabilmente, inconsapevolmente ho saltato il 3, perché detesto comprare prodotti, quindi uova, da allevamenti che tengono le galline in gabbia. Ricordate, andatevi a leggere il mio articolo, è molto interessante, e qui anche però è interessante perché vi spiega, vedete, vi spiega come leggere l'uovo, e io ne ho fatto un piccolo articolo, io cerco sempre di comprare uova con il primo numero che sia 0, perché che cosa significa uova biologiche? Sono comunque galline che possono scorrazzare tranquillamente, e possono mangiare su terreni coltivati secondo le tradizioni biologiche più pragmatiche, e queste sono le large, ce ne ho prese 4, perché essendo sola non mi servono molte uova, anche perché non ne maggio moltissime, devo essere sincera. Poi ho preso questo, è un brodo vegetale che mi serve appunto per cucinare la carne, comunque il brodo serve sempre, granulare istantaneo, non c'è molto da dire, questi sono i valori nutrizionali, medi per 100 grammi di prodotto, lo voglio provare, invece di usare i famosi dadi, certo, o la carne o le verdure, se magari siccome lavoro e sono tutto il giorno fuori, magari ho voglia di un brodo e non ce la faccio a prepararlo da sola, metto questo nell'acqua e ho fatto. Poi sempre all'inso ho comprato questo, sono vitamine e minerali dalla A alla Z, perché? Perché voglio aiutarmi, sì tramite l'alimentazione, ma purtroppo non basta, perché sono anemica e non si capisce perché sono anemica e quindi ho voluto comprare queste, le proverò e questo è completo, è un integratore alimentare e poi ho comprato questo, che riguarda la linea appunto, è il chitosano più cassia nomame, non so come si dice, e questo praticamente, eccolo qui, gli ingredienti, integratore alimentare a base erboristica in capsule con chitosano, cassia nomame o nomame e cromo, questo è tutto quello che c'è, eccolo qui, attenersi alla dose giornaliera, non assumere in gravidanza non c'è problema, non assumo altri farmaci, per l'equilibrio del peso corporeo e per il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo e per il mantenimento dei fisiologici livelli di glucosio nel sangue, siccome io ho dei picchi di glicemia, di insulina, scusate, io sono iperinsulinemica, cioè è l'opposto del diabete, io produco troppa insulina, il diabetico produce poca insulina, io ne produco troppa, ma non è una malattia perché scompare con un'alimentazione sana e un buon stile di vita, quindi mi devo rimettere in carreggiata perché il mio forte dimagrimento non posso perderlo così e quindi ho comprato questo ed ecco l'intruso, l'avevo comprato perché ho comprato questo, ho comprato questo perché mi sta affinendo questo, molti vitamine e minerali dell'equilibrio, devo essere sincera, efficienza e vitalità è vero, io da quando ho iniziato a prendere questo, una alla mattina, devo essere sincera, ho trovato un miglioramento delle mie attività, quindi l'efficienza e sono molto, ecco la lavastoviglie che scarica, e sono molto effettivamente più attiva, quindi questo l'ho comprato, adesso voglio provare questo della Vitawell, però se dovesse non piacermi quello tornerò senza dubbio a questo dell'equilibrio, voi sapete che io ho un affetto particolare per l'equilibrio perché trovo che faccia dei prodotti ottimi, questo è un piccolo video haul tutto biologico, tranne questo e credo anche queste non siano biologiche, però ah, dimenticavo, ho comprato anche un'altra cosa che mi piace tantissimo e ve la voglio far vedere, aspettate un attimo, ho comprato questo, sto cercando di eliminare completamente il pane raffinato e ho comprato questo, questo è senza lievito, quindi senza sale aggiunto, senza grassi aggiunti, fonte di fibre, 100% vegetale, voglio comprare anche quello integrale, quello, ma ce ne sono di vari tipi, quindi voglio, per ora io lo conosco questo e questo è molto buono perché addirittura mi faccio i panini con questo, se vado a lavorare come vi ho detto, o mi porto quel panetto della Kellogg's, oppure utilizzo anche questo con al centro qualcosa, ci metto qualcosa e faccio una specie di panino, e poi ho trovato questo, che è una fonte di calcio, c'è scritto pazzesca, mi piacciono moltissimo, sono delle piccoli snack che sanno di formaggio, sono fatti con il grana panano, sono cotti al forno, devo dire che mi piacciono veramente tanto, come snack una volta ogni tanto, anche perché sono fonte di calcio e sappiamo che alle donne il calcio serve moltissimo, questo è tutto, siamo arrivati a 8 minuti e qualcosa, quindi è meglio stoppare qui, altrimenti non lo carico più, un bacione a tutti, ciao, 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 ciao!